La mia previsione del Consiglio dei Ministri, Presidente Prodi, due di picche, Ministro degli Interni Caruso, Ministro degli Interni e Ordine Pubblico, Caruso è quello degli scontri, Ministro delle Pari Opportunità, Vladimir Luxuria, Ministro degli Esteri, Pertinotti, quello che con Di Liberto ha fatto entrare Ocalan e Labbaraldini, due famosi terroristi in Italia, Ministro della Giustizia, D'Ambrosio, il boia di Craxi, sottosegretario al Ministro della Giustizia, Onorevole Dejana, quella che farà chiudere il carcere di Sulmona, complimenti, Ministro della Sanità, Fassino, quello ce l'hanno fatto per problemi fisici suoi, l'avete visto come sta ridotto, lo faranno Ministro della Sanità, Ministro della Navigazione, D'Alema, perché c'è una barca, giustamente deve fare il Ministro della Navigazione, Ministro dell'Immigrazione, Rizzo, per l'immigrazione libera da parte di tutto il mondo in Italia senza alcun controllo, poi hanno fatto un nuovo Ministero, il Ministro della Trasmigrazione, questo l'hanno dato a Mastella, lo daranno sicuramente a Mastella, Ministro dell'Economia Rutelli, gli daranno un pallottoliere perché senza pallottoliere non sa fare nemmeno i conti, Ministro dell'Istruzione Di Pietro, l'Onorevole Di Pietro, non so se ci avete presente quello che gli facevano fare il magistrato prima, adesso lo faranno fare il Ministro dell'Istruzione, ma per istruirsi lui però, Ministro dei Trasporti, Pannella, perché gli servirà per fare abbondanti carichi di marijuana e di hashish da spacciare ai nostri figli. Signori, il 9 di aprile si vota, levati i soldi alla banca, mettetevi sotto al cuscino e tanti auguri, buonasera.